Buongiorno, sono il dottor Gittigliuzzi, faccio ricerche da decenni nel campo dell'intelligenza intuitiva. Uno dei campi di questa ricerca naturalmente è l'economia e il lavoro. Quindi molti sono contenti o non sono contenti nel lavoro, però ognuno ha un talento, ha un'inspirazione, ha un impulso da quando è nato, sa un po' cosa fare, cosa non fare, quali sono i propri interessi. Quindi nel campo del lavoro è importante riuscire a capire, riuscire a sentire quali sono le vocazioni, gli intenti, i talenti che ognuno ha già sviluppato nel proprio sistema biogenetico. E questa capacità io insegno a riconoscere, a capire, a utilizzare. Quindi chi ha già un lavoro lo aiuta ad approfondire come utilizzare più in quello che sta facendo tutti i giorni, la propria intelligenza intuitiva. E non è difficile, trovo sempre il metodo come farlo. E per chi naturalmente non ha ancora trovato, sta studiando, è importante che quello che studia, è importante prima di cominciare a studiare, capire quali sono i compiti principali che si ha nella vita. Penso già da bambino, in ogni caso da studente, bisogna ricevere queste informazioni. Chi può dare queste informazioni? Chi ha sviluppato in un modo professionale l'intelligenza intuitiva e quindi riceve in un modo facile queste informazioni o accompagna la persona a ricevere queste informazioni. Quindi, in qualsiasi ditta, il lavoro che si propone di mettere insieme i collaboratori è insieme al nostro istituto fare una ricerca che non dura tanto. Noi riusciamo, se abbiamo i nomi dei collaboratori, a capire, scriviamo subito quali sono le competenze dei diversi collaboratori, a capire quello che danno, quello che non stanno dando, quello che hanno paura di dare. Quindi, di aiutare un po' i collaboratori e la ditta a sviluppare, tramite lo sviluppo delle capacità individuali dei propri collaboratori, a farli lavorare di più, a farli lavorare volentieri, perché il desiderio più grande che abbiamo, che ognuno ha, è quello di sviluppare le proprie capacità individuali. Questo detto adesso in modo generale. Però noi lavoriamo sul concreto, quindi sappiamo come subito diamo risposte immediate a domande immediate. Ciao.